Nick cosa stai facendo con quella patata dietro? Ma come cosa stai facendo? Niente! Ma stavi proprio facendo una cosa strana, guarda stavi sculettando e volevo dare... Ma stavo facendo niente io! Sì, sì, invece stavi proprio facendo tutte le cose, io infatti non ho visto niente, però adesso dobbiamo cambiare i biomi, adesso ragazzi voi vi direte ma come cambiare i biomi Dunis? Niente, praticamente queste staffe magiche io posso prelevare un bioma da qui, tipo posso prelevare la taiga, tipo così. Nick ne ha tante di queste cose quindi posso farlo, e poi dopo posso praticamente mettere questo bioma dove caspita mi pare. Infatti io qua dietro, nel senso nel secondo inventario, ho questo bioma qui, io infatti adesso se faccio così, adesso spammo un po' in giro questo appunto bioma qua freddo, no? E in teoria se poi dopo arriva diciamo la pioggia, perché con la danza e la pioggia noi faremo la pioggia, dovrebbe nevicare in teoria a rigor di logica, spero, mi auguro. Perché comunque il bioma è cambiato, quindi dovrebbe nevicare tutto ad un tratto. Anche se adesso però non si vede, sembra che sto cliccando a caso e sembro uno fuori di testa, vi capisco anche se magari vi state spaventando un attimo. Ma tranquilli perché non sono fuori di testa, so perfettamente ciò che sto facendo, giusto Nick? Sì, esatto. Ok perfetto. Cosa ti ho detto io a proposito del non parlare solo sì o no? Ah che devo parlare di più! E soprattutto mi devi rispondere subito appena finisco di parlare, quindi concentrati su questa cosa, mi raccomando. Oh ho trovato anche belle cose, tipo ho trovato una spada, un po' di armatura, molto bene. Adesso, Nick io ballerò, ok? Farò la danza della pioggia, falla anche tu. Allora io ballo, faccio la danza della pioggia, faccio la danza della pioggia. Un, due, tre, un, due, danza della pioggia? Eh, sto vedendo cose vero, lo sapevo ragazzi! È venuto a piovere, sì è venuto a piovere, wow! A nevicare non a piovere, a nevicare hai capito? Io non vedo la pioggia perché l'ho disattivata. Ah ok, nevica, sta nevica vedi che c'è della neve qua sopra? Hai visto Nick la potenzialità di queste bacchette? Ragazzi, queste bacchette ovviamente sono importantissime perché appunto qua siamo su Minecraft ma possiamo modificare tutti quanti i biomi. Tipo se c'è un bioma freddo lo possiamo rendere subito caldo e tipo il ghiaccio si scioglie. Quindi il nostro compito adesso sarà andare a trovare uno di questi biomi ma ovviamente dovremo anche sopravvivere in questo mondo così tortuosamente bello. Però queste staffe mi piacciono troppo, sono troppo utili, si possono fare un sacco di cose. Immaginate tipo adesso se io vado qua in giro e tipo vado in giro su tutto il mondo a far diventare tutto quanto neve. Sarebbe bellissimo oppure il contrario potrei fare, magari posso fare tipo che venga pioggia. Tipo adesso vedete qua il ghiaccio si sta appunto facendo perché è appunto un bioma freddo questo, a tutti gli effetti. Con tutte le proprie caratteristiche quindi nevica anche. Cioè fighissima sta cosa, mi piace molto. Infatti adesso Nick se noi andiamo a cercare uno di questi biomi sicuramente lo troveremo. Però prima di tutto ti do un compito, vai a prendere un po' di legno. Ok. Ci serve molto legno. E prima di tutto ma... Quanto più o meno? Ma allora prendine un po' tipo 20, non di più. Ok. Se riesci a prenderne altro va anche bene, ovviamente non dico niente. Però io intanto voglio andare un attimo ad esplorare in giro perché chiaramente devo trovare anche certe cose, se no non va bene. E poi comunque anche se tipo vado in giro a trovare tipo non lo so nuovi biomi, magari poi dopo va anche a finire che riusciremo a trasformare tante cose, no? A trasformare tanti biomi dico. E quindi automaticamente saremo molto soddisfatti perché chiaramente faremo un sacco di belle cose, tipo se io trasformo questa parte qua così, continua a nevicare, vedete? E beh, è bellissimo, cioè tipo qua non nevica, nessun problema, adesso nevica. Cioè vedete? Ma porca puzzarda, quante puzzardaggine questa cosa è bellissima ragazzi, mi piace troppo. Ah, perché sta diventando notte? Non so se sta diventando notte, forse è per la neve, che schifo la neve. No, è bellissima la neve. A te piace Nick la neve? Molto, molto devo dire. Ok, però... Però non è che fa un po' freddo quando c'è la neve. Eh, questo è vero, infatti è brutto per questo motivo ma è molto bella la neve. Nick, dammi per favore tutte le cose che hai preso. Ho preso questo legno. Ok, e poi cos'altro? Solo questo, bene. E poi hai preso anche magari della pietra? Sì, della pietra l'ho presa. Ma perché mi hai risposto tre ore in ritardo? Scusa, ti sembra normale questa cosa? No, non è normale ma per niente. Eh, infatti lo stai continuando a fare comunque, io lo sto sentendo. Comunque dammi della pietra per favore, grazie mille, velocemente. Grazie, grazie. Allora, ma eh sì, droppamela tutta che mi sto già... Oh, troppa mi sta a piedi. Ok, bene. Oh, mi sto accaldando. Comunque siamo, come vedete, nel bioma del freddissimo, più freddo del mondo. È praticamente uno dei più freddi perlomeno nel mondo. È praticamente Nick, se tu hai della pianura da darmi, dammi della pianura. Ah, tieni, dovrebbe essere questa. Sì, vediamo un attimo. Comunque c'è scritto, eh. Cold... No, questa è la Cold Taiga, Nick. Ah. Non... Ah, vabbè, comunque, va bene comunque, dai, la Cold Taiga va bene. Ok, ok, bene. Allora, praticamente cosa... Però no, questa è la taiga fredda. Scherzavo, non va affatto bene. Cioè, vabbè, dai, metto la savana, ho capito, metto la savana. Sì, però mi hai detto proprio questo. Cioè, qua siamo nella Cold Taiga, Nick. Tu mi hai detto... Ah, veramente tu sei qua nella Cold Taiga? Non pensavo che era questa. Eh, invece sì. Però, guarda, se io metto questo, invece, adesso, sto terra... Cioè, terraformando, nel senso, sto facendo completamente un nuovo bioma. Completamente tutto quanto cambiato. Cioè, è bellissima questa cosa. Cioè, tipo, siamo in un campo protetto. Qua, tipo, fa caldissimo. Appena vado qua, buh, freddo, che proprio nevica tutto quanto. Infatti, qua adesso la neve dovrebbe sciogliersi a breve. Anzi, se io vado... Ma qua sta ancora nevicando. Dove sono io? Eh, eh, sì, potrebbe... Sì, 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 dovrebbe nevicare. Anzi, guardate, se io faccio così, in teoria, qua, adesso... E il ghiaccio ci scioglie se affrà pochissimo, no? Perché in teoria dovrebbe funzionare così. Esatto, vedete? No, vabbè, comunque non importa. Ad ogni modo, adesso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tipo una casuccia, ma molto veloce. Nel bioma più calduccio, perché tanto qua non succede niente. Quindi adesso faccio tipo un po' così. Tolgo un po' di neve, ok? Metto un po' di calduccio. Perché chiaramente dobbiamo riscaldarci il sederuccio. E quindi, quando ci riscaldiamo il sederuccio, siamo più tranquilli. Quindi, Nick, vieni qua. E costruiamo una breve casuccia, così possiamo sopravvivere per la nottuccia. Arrivo solo, io ti trovo. Cosa vuol dire questa frase che hai detto? Eh, ti ho perso. Eh, sono qua, comunque, guardatelo. Dove? Ma ti ho perso, non ti vedo più. Adesso ti ho perso anch'io. Prima eri due secondi fa, eri qua. Dove sei finito? Devo urlarti. Dove c'è il ghiaccio? Girati a sinistra. Madonna mia, sei proprio... Dove è la sinistra? Come dove è la sinistra? Ciao. Ah, effetti, davanti a me eri, ma non era a sinistra. Vabbè, guarda, io non dico... Te lo vanti a me. Non dico niente, ragazzi, perché sennò qua mi sconvolgo. Cioè, avete visto tutti, no? Comunque, un po' l'imbecillitudine di questo... Di questo... Usignolo. Come ho detto... Io usignolo? Sì, sì, sì. Eh, come ho detto, sei un po' un isignolo. Però, vabbè, dai. Questa è una casuccia veloce che fa schifo. Però, per farvi capire le potenzialità di questa cosa. Cioè, di questo... Di questa staffa magica. È bellissima questa staffa. Chiaramente è l'unica staffa che merita di essere condivisa con il mondo. E quindi ho deciso di condividerla proprio in questo momento. Ah, che bello condividere le cose. Sto scherzando. Adesso me le tengo tutte per me. No, scherzavo con voi. Condividerei tutto. Adesso, però, Nick... Eh... No, mi devi scavare, sai? Perché adesso io sono bloccato qua dentro. Ah, ok. Mi sono bloccato. Tieni, eccoti qua. Oh, grazie. Abbiamo fatto una porta. Wow, che bello. Molto bello. E adesso qua abbiamo una casuccia veloce. Bene, adesso mettiamo una crafting table qua. Ma perché ho un blocco che mi gira? È un blocco di te appunto. Vabbè, la tolgo magari perché sennò poi diventa orribile. E quindi mi faccio una cesta. Secondo me non c'è spazio per tutti e due. Allora, quando tu potrai darmi consigli, gli uccelli canteranno come le sirene fanno. Quindi, decidi un po' tu, insomma. Non lo so, cioè se pensi che i pesci cantino. Certo che i pesci cantano. Mm, 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 mm. Allora, ti posso uccidere se i pesci cantano perché c'era scritto questo nella regola dei pesci cantanti. No, no, no. C'è scritto proprio che i pesci uccidono Nick e soprattutto che Nick viene ucciso da Doonis. Non c'era questo nella regola. Io me lo ricordo perfettamente. Io no, proprio per niente. Eh, sì. Comunque, devo dire che questa cosa... Non perdermi di vista, sennò dovrò ucciderti ancora di più. Vieni dietro di me! Non ando a casa! Eh, fai male ad andare a casa. Comunque, vieni qua perché dobbiamo esplorare meglio queste biomi. Tipo, ecco qua. Qua c'è un igloo. Allora, l'igloo chiaramente nasconde sotto. Tutti sanno. Non c'è qua in questo igloo, in particolarmente. Però dovrebbe esserci... No, dammi... Allora, questo mi... Dovrebbe esserci se io faccio così. Adesso si dovrebbe scegliere tutto quanto. Haha, sciogliti. Ma povero igloo! No, povero niente. Perché io detesto gli igloo. Non te l'ho mai detto, ma io li detesto con tutto il mio cuore. Ma come mai? Cosa ti è successo con gli igloo? Mamma mia, certo che tu parli proprio da deficiente. Cioè, allora, io volevo dire... Volevo essere sarcastico e dire che parli bene in modo sarcastico. Ma no! Cioè, proprio parli malissimo da deficiente, da rincoglioni. Cioè, veramente, ma non è possibolo. Oh, veramente. Purtroppo certe parole non si possono dire su YouTube. Ma ora te ne direi tante, tante, tantucce. Guarda, io sto andando un po' in giro per trovare qualcosa. Però vedo che questo bioma è infinito. Cioè, che caspita c'è qua? E anche io ti sto seguendo. Eh, però, Nick, qua non c'è niente. Cioè, è una distesa completa di neve e ghiaccio totalmente. Cioè, ma non è normale sta roba. Wow! Mi fa piacere che ci sia tutta questa neve e ghiaccio, devo dire. Però, devo anche dire che adesso dovremmo trovare un altro bioma per trasformarlo. Anzi, ma se io tipo vado in giro... Mi dispiace però distruggere perché è così bella la neve. Allora, a voi, qual è la vostra stagione preferita? La mia è l'estate, ma anche l'inverno. Le mezze stagioni non mi piacciono. Cioè, no, mi piacciono. Sono molto belle, tipo l'autunno. La tua, Nick, qual è la stagione preferita? La mia è l'estate. Mmm, è perché... Perché poi l'estate comunque ci sono le vacanze. Si va in piscina, ci sono le vacanze. È vero. Però l'inverno è anche bello perché poi Babbo Natale ti porta i regali. Esatto. Soprattutto scrivetemi... Qual è la vostra stagione preferita? Nei commenti, magari. Perché è bello saperlo. Adesso condivideremo tutti quanti la nostra stagione preferita. Porca puzzarda! Siamo intrappolati all'interno di questo bioma. Guardate, ragazzi, che è enormemente grande. Infatti, io e Nick ci siamo persi. Ma è tipo mezz'ora che stiamo girando qua in giro. Infatti, adesso basta. Lo trasformo tutto quanto perché non ne posso più di questo bioma. Comunque, volevo dirvi che mentre magari stiamo camminando, mentre stiamo vedendo questi fiorellini gialli, mentre vedete me che sto... Mentre sentite me anche che sto parlando. Volevo dirvi che io mi sto sempre più rendendo conto, e spero che anche voi, che siamo dentro una grandissima famiglia e che è bellissimo. È bellissima perché appunto siamo un gruppo enorme di persone, chiaramente, che sta diventando sempre più grande, chiaramente. E questa cosa è veramente bella. Infatti, vi ringrazio molto. E infatti dovremo tutti quanti seguirci perché appunto ci vogliamo bene. e perché... Ma tutti quanti all'interno della famiglia. Cioè, tutti... Dico, vabbè, voi dovreste guardare i miei video perché... Non solo perché faccio Minecraft, ovviamente, ma anche perché è bello. È bello cambiare idea, è bello fare altri giochi. Nick, tu dove sei finito però, mannaggia te? E mi ha risploso il Minecraft. Adesso sono appena rientrato. Vabbè, comunque, niente. Io direi che però è stato bello. Oddio, mi sono rotto. Vabbè, io... Ah, perché non funziona? No, ma io non ci voglio credere. Mi si sta rompendo Minecraft, ok. Vabbè, io direi che questo video possa finire qua. Non è successo. Eh, non posso dirti niente. Però, perché è un segreto di stato. Niente, fatemi sapere se volete vedere altri di questi video magici. Fatemi sapere il vostro bioma preferito. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!